Noi abbiamo voluto fare un po' il punto della situazione per consegnare questo lavoro che abbiamo pensato di fare all'amministrazione comunale in modo da dare l'esatta visione di quella che è una situazione particolarmente critica nella nostra città. Delle 57 palestre impianti tra i 43 gestiti dal comune e i 14 dalle EDR, solo 48 sono utilizzati e solo 5 palestre hanno lo spazio per ospitare il pubblico. La Vascotto, la Don Milani, la Cobolli, la Morpurgo e la Visintini. Il presidente FIPAV Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli ha sottolineato le criticità edilizie dei plessi scolastici che ospitano gli impianti per l'attività sportiva sia per gli alunni della scuola sia per le squadre che adoperano la palestra. Dopo le attività scolastiche negli impianti convivono più società e più sport con sovrapposizioni fra studenti, atleti e la condivisione degli spogliatoi. Tutta una serie di impianti scolastici che sono oramai vettusti, che hanno bisogno di una manutenzione importante. Quello che noi chiediamo è che ci siano sostanzialmente più cose. Innanzitutto una programmazione della manutenzione. La seconda cosa è quella di sicuramente di terminare il polio di San Giovanni perché è una palestra che darebbe un po' di, almeno di sfogo. Polio che dico che sinceramente noi ci aspettiamo che venga chiuso almeno nel 2022 e non nel 2023 come ho sentito e abbiamo sentito dire. E poi sicuramente pensare ad un nuovo impianto perché questa città non regge sportivamente ma io dico anche che dal punto di vista scolastico questa città ha bisogno di nuova impiantistica. Inoltre la mancanza di pubblico per vedere le partite delle ragazze e dei ragazzi in 43 palestra su 48 costringe i genitori a seguire gli eventi solo tramite i social. La dice grossa un po' sulle difficoltà che ci sono. Pensate a tutti i genitori, i familiari che vogliono vedere i propri ragazzini fare un po' delle proprie attività che non ce ne hanno questa possibilità e devono magari seguire direttamente dalle dirette Facebook le partite dei loro figli o nipoti.